Anche quest'anno sono state scelte le materie per la seconda prova della maturità, in particolare per i licei, al liceo classico è stato scelto il greco, al liceo scientifico matematica, al liceo linguistico lingua straniera, al liceo pedagogico pedagogia, al liceo artistico figura disegnata. Per gli istituti tecnici e professionali, per l'istituto tecnico commerciale economia aziendale, per l'istituto tecnico per geometri estimo, per l'istituto tecnico per il turismo lingua straniera, per l'istituto professionale dei servizi alberghieri e della ristorazione economia e gestione delle aziende ristorative, per l'istituto professionale per i servizi sociali tecnica amministrativa. L'anno scorso sono state scelte tracce, credo chiare, più corte e forse più vicine all'interesse dei ragazzi, l'intenzione è di procedere nella stessa direzione, quindi nel rispetto della tradizione della maturità, individuare delle tracce che però siano vicine alla sensibilità dei ragazzi con qualche elemento di novità. Per consultare l'elenco completo delle materie scelte basta visitare il sito www.istruzione.it